Allora, ciao, io sono Marcello Longo, sono il presidente di Slow Food Puglia dal 2018, però precedentemente nel 2000, quando ho iniziato il lavoro con Torre Guaceto, ero allora un giovane fiduciario. Tutto quello che sta accadendo, che è accaduto, è accaduto perché lo abbiamo voluto, ma non siamo stati da soli, perché dire che l'ho fatto io è una cosa molto grave, anche perché io è il diminutivo di Dio, cioè se non ci fosse stata una squadra, i nostri pescatori, il consorzio, il WWF, il comune di Brindis, il comune di Carovigno, tutta questa gente, se non ci fosse, non avremmo fatto nulla, è stata una vittoria di squadra. Diciamo, hanno innanzitutto, hanno costituito l'area mediana protetta dividendole in zone A, B e C. A è una zona integrale, B è una zona dove c'è la balneazione dall'alto al framonto e la C dove sono state autorizzate le attività professionali come la pesca artigianale di tutte le altre cose, no? È stato in questo momento, in questo periodo è stato redatto il protocollo di pesca, diciamo, dal consorzio di gestione, dai ricercatori, dai solo food, è concordato con tutti i pescatori, cioè la cosa bella di questa area marina che vi leva anche momenti tristi, però ha cercato di coniugare, di coinvolgere, di far condividere le scelte anche i pescatori. È stato molto difficile, come puoi immaginare, perché non è che un pescatore di vicino da comando non peschi più. Cioè, in poca parola, siamo riusciti a bloccare la pesca per 5 anni, dal 2000 al 2005. Bene, dopo 5 anni c'è stata la prima pescata ed è stata biblica, cioè i rebatti andavano giù, quanto pesce tirano fuori. Cioè siamo riusciti a sviluppare la popolazione ittica del 400%. Abbiamo deciso di farli pescare una volta alla settimana e questa è la cultura che ha portato avanti questo discorso. Loro hanno capito questo, tra l'altro il sistema, diciamo, di pesca, rete, diciamo, rete mille metri lunga, 33 millimetri, una volta alla settimana, rete da posta. Voi quanto è importante la biodiversità, quindi nel senso il mare con le sue risorse, legato ovviamente all'attività che svolgono i vari operatori? Sì, allora, a quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo della sostenibilità, noi abbiamo accertato che dopo 5 anni di fermo abbiamo valorizzato. Perciò il contributo che stiamo dando al mare, noi, anche con questi presidi, è che già diamo delle regole. Cioè noi usiamo una rete molto larga perché il pesce deve vivere. Una cosa molto importante che è accaduta, è successa a Torre Goceto. Oggi arrivano nei piatti, al ristorante, pesci che non si sono mai riprodotti. Le triglie a Torre Goceto, statisticamente accertate, si riproducono cinque volte. Questo è un benessere. Stiamo venendo pescare localmente, ma stiamo contribuendo globalmente, perché quello che sta dando la pesca sostenibile di Torre Goceto, che ha dato, è lo sviluppo. Questo è il discorso, perché sono stati microcippati questi pesci, pescati dei salaghi particolari, sono microci, e poi è stato accertato che questi pesci sono spostati e sono andati. Abbiamo accertato che questo tipo di pesca ha contribuito a sviluppare la biodiversità marina anche altrove. E in questa occasione della pesca sostenibile di Torre Goceto, quello che stiamo facendo, è che tutti questi pescatori stanno accertando che all'inizio, io glielo dico, e ricordate all'inizio quante me ne avete combinato, sì, però effettivamente non ci credevamo, e adesso ci credo, ma la cosa molto importante è che oggi loro sono veramente delle sentinelle. Hanno chiesto oggi, noi abbiamo 2300 ettari di mare, hanno chiesto di allargare l'aria protetta a 7500, cioè questo cosa voglio dire? Ecco perché abbiamo fatto questo convegno internazionale. Loro dice, se noi usiamo buone pratiche a mare, anche dove non ci sono vincoli, riusciamo a portare un grande contributo al territorio. E quello è stato. Difatti la Regione Puglia ha autorizzato proprio questo fatto qua, di allargare la riserva. Mi può dire quali sono i benefici che i pescatori traggono dalla biodiversità? Abbiamo consigliato subito la comunità dei pescatori d'Oreco e Centro, tanti anni fa. Successivamente diciamo, interviene il Ministero dei Trasporti e dona la prima bandiera, la prima bandiera blu, per il rispetto del mare ai pescatori d'Oreco e Centro, la comunità dell'Oreco e Centro. Successivamente dopo la comunità c'era l'esigenza, perché bisognava dare un futuro economico, per dare un futuro economico, cioè non esiste sostenibilità senza sostenibilità economica. E siamo riusciti a sviluppare questo progetto che si chiama Cap Salente, Comunità Agricoltore e Pescatore del Salente. Abbiamo fatto decollare tre presidi sul mare in quella presione, che sono il presidio della piccola pesca di Torreco e Centro, il presidio della piccola pesca di Porto e Centro, il presidio della piccola pesca di Uggento e un presidio sul pomodino di Manduria. La Fondazione Sudan ha visto proprio che c'era questa volontà di poter fare qualcosa per gli altri, costruire bene comune, creare sinergie, creare economie, creare la sinergia di dare un futuro a questi pescatori, ma non solo a questi pescatori, ai figli di questi pescatori che si erano allontanati dalla pesca. Il progetto va avanti dal 2000, da quando il Consorzio di gestione ha deciso di bloccare la pesca e di portare avanti questo discorso della soluzionabilità del mare. Perciò dal 2000 all'oggi sono tanti anni, tanti anni che noi nonostante tutto siamo ancora qui con i nostri pescatori che continuano a crederci. Circa il 35% dell'area protetta è tutta convertita in via e noi prima di morire, speriamo, vorremmo portarlo al 100% in modo integrale. Nel 2005 noi abbiamo fatto decollare il primo presidio sul pomodoro peschetto e il pomodoro peschetto, un pomodoro che era stato estinto purtroppo a una virosi. Siamo partiti con questo presidio, con questo pomodoro peschetto perché siamo andati da alcuni contadini che avevano la portiana e ci hanno dato questo vasetto di semi. Abbiamo portato dati di dovere, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto il semenzaio e abbiamo trovato le piantine. Adesso siamo andando avanti. Adesso si produce in modo veramente molto molto importante. Ci sono quattro produttori che producono questo pomodoro. Abbiamo dato un'economia. Questo disciplinario di produzione, perché per un presidio come quello del mare o la rete, qui ci sono delle regole, c'è un disciplinario che si rispetta e bisogna rispettarlo. Cioè il pomodoro innanzitutto deve essere piantato come si dice nella storia. C'è un disciplinario di produzione. Questo disciplinario di produzione impone che ci sia la rotazione. Se io quest'anno ho messo il pomodoro in questo ettaro, l'anno successivo non posso metterlo là, devo ruotarlo. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato, facendo questo, anche il grano. Perché abbiamo fatto pomodoro, farro e grano. E ogni anno ruotano. Ruotano perché bisogna caricare il terreno. Cioè abbiamo usato, semplicemente, abbiamo replicato quello che facevano le nostre nonne. Capirci, i presidi sono esempi concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura sostenibile, basata sul recupero delle sapere tradizionali, rispetto delle stagioni e benessere alle mani. I presidi rafforzano, diciamo, economie locali e garantiscono una forte alleanza tra chi produce e chi consiene. E' importante, no? Rilocalizzare la produzione, coniugando il valore economico con un modello di agricoltura sostenibile, pesca sostenibile e la consapevolezza di voler rigenerare attraverso i giovani e le ricette della memoria. Cioè perché il pomodoro si è scherzato per dirne una. Io lo mangiavo quando ero bambino e adesso lo sto rimangiando e lo mangeranno anche chi verrà dopo di me. E questa è una cosa che mi fa il mio nome. Questo nostro modo superante sarà la Dica in grado di affinare il disastro ambientale a noi già. Grazie a tutti. Grazie a tutti.